ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi andiamo a preparare insieme una perfetta crema al mascarpone della mia nonna e iniziamo subito prima cosa andiamo a dividere gli albumi dai tuorli di ben 4 uova mi raccomando dividetelo perfettamente poi come prima cosa andiamo a montare gli albumi a neve armatevi come sempre di pazienza e il risultato deve essere questo quindi non deve cadere appunto deve essere bello solido procediamo con andare avanti con la ricetta quindi prendiamo i tuorli e andiamo a mischiare per bene l'importante non montare troppo mischiamo per bene con lo zucchero come sempre troverete tutto in descrizione tutte le quantità e poi procediamo ad aggiungere il mascarpone andiamo anche lì a mischiare per bene il tutto una volta che abbiamo raggiunto questa consistenza quindi tutto bello amalgamato per bene procediamo con l'aggiungere il l'albume montato e continuiamo a mischiare per bene dal basso verso l'alto con tanta pazienza in modo che non si smontino gli albumi con una semplice spatola e mi raccomando mischiate molto bene una volta amalgamato tutto per bene sarà un avrete un risultato pazzesco e e voilà ecco il risultato guardate che bella consistenza e come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui ci vediamo sul prossimo mi raccomando iscrivetevi sul mio canale in modo di tenere sempre aggiornati su tutti i video e sulle prossime ricette se provate a farlo fatemi sapere cosa ne pensate ciao a tutti